Ascoltatori, bentornato, oggi va Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichiari, bentornato tra noi. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo una delle coordinate che è il numero per gli sms e i messaggi whatsapp, il 338 17 19 105. Ricordiamo anche, invitiamo a usare anche la chat o la messaggeria di Facebook, siamo live su YouTube, YouTube applicata Facebook, cercate il gazzettino nuovo e Temporadio, da lì ci potete seguire e potete anche scrivere. Allora, dunque, Monsignore, noi siamo al 2 dicembre, vorremmo parlare di Natale e dare dei messaggi positivi, cosa che faremo, però le dobbiamo chiedere, insomma, per forza di cose anche così un parere del fanatismo religioso. Mi viene in mente un libro che già scrisse a suo tempo Giovanni Paolo II, Non uccidere il nome di Dio, però ci troviamo di fronte invece a persone, adesso senza andare nello specifico, che cosa può spingere una persona a compiere? Nel diventare fanatica? Radicalizza all'estrema potenza tutto ciò che invece è la verità del proprio credere. Il fanatismo religioso, lo ritengo, è una strumentalizzazione personale di ciò che si crede, per portare avanti le proprie tensioni o la propria rabbia o le proprie verità che uno porta dentro. Una persona che crede non deve mai arrivare al fanatismo, perché il termine stesso lo dì in senso molto negativo. Uno deve essere una persona che applica la propria fede nella vita quotidiana, ma non arrivare mai al fanatismo perché si entra in una realtà che diventa certamente negativa. I fatti che abbiamo purtroppo in queste settimane vissuto e con la preoccupazione che sempre possono accadere ci accompagnano in questi giorni della nostra vita. Qui penso che l'aspetto del tempo dell'Avvento, il tempo del Natale, sto parlando come credente in questo momento, ci aiuta a riscoprire il senso della nostra fede come cristiani, per non correre appunto il rischio di andare a un estremismo che porta fuori dall'alveo della fede cristiana stessa. Il fatto che noi siamo invitati a Natale a contemplare e a riappropriare nella nostra vita di uomini e di donne credenti il grande miracolo di un Dio che smette, tra virgolette, di essere Dio, dico tra virgolette per non andare nell'eresia, nel senso che nasconde il suo essere Dio e si fa uomo, perché ogni uomo possa incontrare Dio e farsi Dio, è il mistero centrale della nostra fede, in mezzo al mistero della Pasqua, però dice una straordinaria realtà, che Dio è amore, che non abbandona mai l'uomo. Poi in questi giorni dove come parroco e come abate di Montichiari devo vivere anche l'esperienza della morte, questa mattina ho celebrato il quinto funerale in due giorni, oggi pomeriggio ho un'altra persona accompagnata la sepoltura, dice come la nostra vita, se non gli diamo un significato autentico, rischiamo di perderla e di arrabbiarci al punto tale da non trovare più il senso della relazione con noi stessi, con gli altri e con Dio, che il Dio Gesù Cristo l'ha fatto vedere in maniera straordinariamente bella. Certo, certo. Quindi appunto diciamo che lo sfruttare la religione per sfogare le proprie frustrazioni, le proprie rabbia eccetera, però vero è, noi siamo italiani, è vero è che l'Italia dal centro-sud per esempio, sto cercando di fare l'avvocato del diavolo, visto che parlo con un sacerdote, tra l'altro è un'espressione che insomma, l'Italia dal centro-sud ci insegna che ogni paese, anche il più piccolo, ha un castello e il castello fu fatto per difendersi poi dagli antenati degli attuali musulmani. Adesso non me ne voglia nessuno, assolutamente, però questa è storia, non è... Sì sì ma è una storia dell'uomo, è una storia dell'uomo. San Benedetto del Tronto è la città europea con la percentuale di capelli rossi più alta d'Europa, più dell'Irlanda addirittura, proprio per l'unione tra la popolazione locale e i pirati saraceni famosi per esempio. Certo, sì sì ma però la violenza non deve essere mai combattuta con la violenza, il fatto stesso che anche Papa Francesco l'ha ribadito mille mille volte anche nel suo viaggio apostolico in Africa che è di richiamare il senso dell'appartenenza, il senso della relazione, il senso della pace, il senso della fraternità, il senso del condividere e nel cercare di accordarsi sulla realtà della vita dice alla grande una possibilità di poter superare la violenza nella concordia, nell'avere la sintonia del cuore che certamente è un cammino, ma tutti i cammini costano, però bisogna essere, sono certo in due a volerla questa concordia, però cominciamo noi a essere propositivi e penso che domenica scorsa proprio lo dicevo durante un'omelia, una messa che ho celebrato in Duomo Montichiari che purtroppo tante volte puntualizziamo più l'aspetto negativo delle cose e lasciamo perdere anche le piccole bricciole del positivo, ma guardiamo con gli occhi un po' più aperti perché se continuiamo a fare così ci tiriamo la zappa sui piedi e diventiamo persone incapaci di vivere, ma di vivere o abbiamo sempre paura, una gran paura? Certo, certamente. Allora, dunque, poi c'è un altro argomento, adesso vediamo di legge lo sfrutto anche i messaggi degli ascoltatori. Finalmente, Monsignore, perché a Montichiari non c'è il presepio? Ho visto che c'era una mail prima nella quale chiedevano fondamentalmente... Eccolo qua. Luca, posso chiedere cosa ne pensa di quei presidi che tolgono i crocifissi e vietano i presepio? I presepio a Montichiari stiamo, almeno da parte della Chiesa Cattolica, stiamo preparandolo e quindi ci sarà il presepio e ci mancherebbe altro perché è un segno esterno anche di una presenza vera della Natività. Per quanto riguarda poi l'aspetto che Luca, mi ha detto che l'ascoltatore, ha chiamato questo messaggio, cosa vuole che risponda? Certamente non sono d'accordo su il togliere dei segni, ma non perché sono legato al crocifisso o al presepio, ma perché diventa un segno esterno per ciò che uno accoglie nella propria vita. Quindi anche noi viviamo di segni e se non abbiamo i segni nella vita siamo fritti, posso dirlo, anche se non è un linguaggio italiano corretto. Ma siamo persone che non riescono a vivere, il stesso linguaggio diventa un segno del mio relazionarmi con l'altro. Quindi dobbiamo dare il giusto senso al segno. Poi non mi si indica che il crocifisso è un segno che può incutere del paura o terrore ai bambini. Sono favole che si raccontano per giustificare le proprie credenze negative su questa realtà. Il crocifisso dice solo un grande amore che Gesù ha avuto verso tutti noi, tutti, dal primo all'ultimo. Guardi, le aggiungo un altro, associo un messaggio sms a una mail, Angela, messaggio sms, dice chi crede veramente, noi o loro, quanti di noi credono in qualcosa oltre che loro stessi, punto di domanda, ognuno di noi pensa solo per sé. Qui apriamo il tema dell'egoismo che è veramente... Per quanto riguarda la mail, avevo visto prima un messaggio, una mail nella quale chiedevano fondamentalmente... Ecco, un buon musulmano, eccolo qua, un buon buddista, induista, seguace di mani tu, dice vai in paradiso, se sì, allora perché ringraziamo il Signore di averci fatti i cristiani? Qua invece saluto Nicola che ha mandato il messaggio. Buongiorno Nicola, grazie del messaggio. Certamente il Signore è Dio unico e quindi la sua dimensione di universalità e la sua volontà è quella di salvare tutti e quindi di accogliere tutti in paradiso. Io, personalmente, sono strafelice nel pensare che Dio accolga qualsiasi persona al di là della fede della religione cristiana, che la chiamo non tanto religione ma fede cristiana. Quello che a me preme sottolineare in questo momento è il fatto che io come cristiano mi sento di cogliere in profondità il senso di Dio nella sua pienezza perché ho avuto la gioia che Gesù, il figlio di Dio, il Dio fatto uomo, ecco il mistero dell'incarnazione, il mistero del Natale, mi ha fatto vedere e quindi io ho più possibilità in confronto a altre persone di cogliere il senso di Dio, che non devo star lì a arrabattarmi nel cercare a destra e a sinistra o arrampicarmi sui vetri nell'inventare il volto di Dio perché dà senso alla mia vita. Ma Gesù me l'ha detto e Gesù, essendo il Dio fatto uomo, questa è la distinzione delle altre religioni anche monoteiste, Gesù me l'ha detto, me l'ha fatto vedere, lui stesso è il volto di Dio e quindi non posso permettermi di andare a cercare altro ma in Gesù io incontro Dio, questa è la grazia dell'essere cristiani, una grazia che io e sono certo che il Signore utilizza anche attraverso altre modalità, altre anche esperienze o di filosofia religiosa come la religione dell'Oriente o altre religioni che abbiamo a che fare. Però io come cristiano mi sento fortunato, meglio, benedetto da Dio perché a me il Signore ha rivelato lui attraverso Gesù. Vediamo un attimo altri messaggi, poi... Allora la Chiesa dice che non è più credibile, manca solo lo scandalo sulla droga, poi l'abbiamo sentito tutto, dice Francesca, che salutiamo. Ah, ok, allora aggiungo anche quest'altro messaggio, questo Papa ha condannato, qua precisiamo che non è stato il Papa a condannare, comunque due giornalisti, perché hanno scoperto che ci sono dei Monsignori che mangiano altro che carità, 500 metri quadrati di lusso. Sì, ecco, io chiedo agli ascoltatori di non continuare a chiamare Chiesa i preti, i vescovi o i cardinali, chiamiamoli clero, che almeno distinguiamo perché la Chiesa in sé sono anche tutti laici e penso che il generalizzare è sempre non bello perché non tutti sono così. Però voglio dire anche apertamente, non penso che ci sia bisogno che lo dica io, però anche noi preti, i vescovi, i cardinali o il clero in genere siamo dei poveri uomini e in mezzo, essendo poveri uomini, ci sono dei preti, dei vescovi che possono o sbagliano. Questo però invito a non generalizzare, non è che tutti i preti siano dei ladri o abbiano 500 metri quadrati di suite. Io mi sento felice che non ho niente, ma è una scelta anche di mia di vita, ma questo non mi rende disponibile a sentirmi prete. Io mi sento prete perché desidero essere del Signore e mi sento molto contento perché mi sento amato da Dio, tutto qua. Assolutamente. Le chiedo, allora le leggo una mail di Francesca, non so se è la stessa Francesca di Prima o Cosa, vediamo, dice il Natale va festeggiato, io di solito con l'arrivo dell'autunno, il freddo e il buio vado un po' in depressione, arriva e dice a non festeggiare più, nel senso che proprio di non fare addobbio eccetera, arriva e a non andare più in chiesa, poi grazie a mio marito ho ricominciato e sono tornata in chiesa, perché si dipende dai simboli? E' un po' contorta la cosa, guardiamo se riesco a cogliere la sua... Però guardi, mi fa venire in mente, la citiamo ogni tanto, proprio in questo periodo, la favola di Benizza Scrooge, il vecchio tirchio che ritiene una perdita di tempo, il tempo è denaro, festeggiare il Natale è una perdita di tempo e lui non festeggia, però di fatto in questo modo sarebbe andato all'inferno, poi scopre, poi va bene, nella fiaba lui ha tre spiriti che vanno e gli mostrano qual è la realtà e cambia radicalmente e diventa non più quel vecchio tirchio che è stato tutta la vita, insomma. Ma noi abbiamo bisogno di simboli, ma proprio perché la nostra vita è fatta non solo di materia e quindi nel non essere solo il nostro corpo, ma avere i sentimenti, abbiamo bisogno sia di memoria, i simboli ci ricordano ciò che è capitato, sia di realtà che ci dicono qualcosa che va al di sopra della nostra carnalità, del nostro essere creature povere e fragili, ma attraverso il simbolo noi riusciamo a entrare in una realtà che non è nostra, una realtà contingente e il simbolo stesso mi dice qualcosa di oltre, ad esempio se noi abbiamo una simbolica della Natale e attraverso il presepio questo mi importa qualcos'altro che non è di mia appartenenza quotidiana, ma è qualcosa che mi riempie la vita. Certo, certamente. E poi possiamo anche dire che le luci comunque eventualmente, per chi soffre di depressione, sono un antidepressivo, per cui insomma, ecco. Allora, qua torniamo al discorso, ecco, questo problema della multietnia, insomma, dell'essere multietnici e dell'incontro di popolazioni, perché un messaggio dice ci calpestano e nessuno di voi dice niente, tra un po' dovremmo studiare arabo perché poverini altrimenti non capiscono. Stavo guardando anche, c'era anche una mail qua, però ho già risposto in pratica, saluto Lorella, che dice, buongiorno Monsignore, le vorrei chiedere di dire come la pensa sul terrorismo islamico, jihad, io lo so che è contrario, ma cosa spinge alcuni a credere che Dio possa provare il suicidio per uccidere altri? È vero, è una strage, obiettivamente. Sì, 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 so che se io lo faccio, questo è il problema, se io lo faccio perché così faccio vincere Allah, allora io vado di sicuro in paradiso, questa è la convinzione, quindi questo suicidio diventa possibile. Però posso fare una battuta? Certo. A me piacerebbe conoscere l'arabo come lingua, è una battuta nel dire che a me non preoccupa il fatto che siano presenti gli stranieri e noi non arriveremo mai a parlare arabo per poter avere la sintonia con loro, ma io sono più preoccupato per i cristiani che non sono cristiani. Se io sono un credente che vivo la bellezza della mia fede, che dà significato alla mia vita, io non ho problemi a entrare in relazione con chi non la pensa così, come me. Il problema oggi è che abbiamo paura delle persone che non sono dei nostri, i nostri tra virgolette, mille virgolette, è proprio questo che tante volte non sono convinto di quello che sono io. Allora siccome non so cogliere il senso che sono io, i valori che ho, la mia fede che è vacillante, questa realtà qua, mi mettono in crisi anche il rapporto con chi è diverso da me. Il relazionarci con le persone è sempre confrontarsi con chi è diverso, qualsiasi persona. La crisi di oggi anche sulle relazioni eterosessuali è proprio questo, che dicono, oddio, oddio, non so mai cosa è nell'altro, nell'altra, che io incontro perché è diverso da me. Anche certamente nelle relazioni omosessuali questo è sempre, l'altro è sempre diverso, anche se è dello stesso sesso. Ma questo è il problema, che abbiamo paura perché non siamo sicuri di noi. Ognuno deve prendere in mano la propria vita, non dico sentirsi sicuro perché poi si diventa egoisti, ma avere una certezza, le certezze che fanno della mia vita i pilastri fondanti. Sì, certo. Fermiamo a uscire un attimino con Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Seconda parte di filo diretta con gli ascoltatori, ci troviamo in compagnia di Monsignor Gaetano Fontana, Abate di Montichiari. Guardi Monsignore, è arrivata un'ultima ora proprio adesso, il Papa dice lo sviluppo deve essere equo e inclusivo. La sfida globale della nostra epoca è la riforma del modello di sviluppo, sia equo, inclusivo e sostenibile, l'ha detto Papa Francesco nella sua prima udienza generale dopo rientro dalla missione in Africa. È uno scandalo, una vergogna per l'umanità, vedere convivere ricchezza e miseria e succede anche qui, ha aggiunto il Pontefice in Piazza San Pietro, qui in Italia. Sì, 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 qui in San Pietro e da tutte le nostre case e tutti i nostri paesi e da nostra città. È il problema, è uno scandalo. Ieri sera ho tenuto l'ultimo incontro per il continuare in produzione al matrimonio con le coppie di fidanzati e sorridendo e dicendoli in battuta, ma non ho detto tanto in battuta, dicevo che è uno scandalo che quando si celebra il matrimonio poi ci sia uno spreco esagerato di riso, di pasta, di tutte le scene e dico questo serve solo a sporcare e ingrassare i piccioni. Io l'ho invitati a pensare quanta gente sta ancora morendo di fan. Sembra una sciocchezza, però anche quei chili di riso che una copia utilizza, tra virgolette, o meglio invidati utilizzano per festeggiare, io dico, è un segno, certo che è un segno anche questo qua, però non servono chili di riso per fare gli auguri agli sposi. Se potessero essere utilizzati per facilitare l'aiuto a chi invece non ha neanche un granino di riso per mangiare una giornata, penso che sia. Si deve partire dalle piccole cose per chiarare le grandi, perché se noi continuiamo solo a puntare il dito, ed è vero, sui potenti che devono mettere a posto le cose, ripeto, è una loro necessità che si svegliano fuori anche in questo aspetto, però cominciamo da noi, dalle cose piccole. Proprio, permettetemi se uso in questo momento la mia realtà, proprio oggi il Vangelo di questa giornata parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù sfama una moltitudine di gente partendo da sette pani e due pesci. E io, nella fantasia che posso avere leggendo la Sacra Scrittura, mi immagino di essere uno dei dodici apostoli che ha quei sette pani e due pesci. 12 più i dodici apostoli più Gesù sono in tredici. Sette pani e due pesci sono solo sufficienti per non far venire la città di stomaco. Ha tredici persone, è vero? È vero. Hanno dato il mano a Gesù e nelle mani di Gesù c'è stata la moltiplicazione, il quale ha dato a loro che diventavano ponti per gli altri. Perché io non mi sento questo apostolo che ha questi sette pani e due pesci e le metto a disposizione. Anche per me ne hanno avanzate sette sporte piene poi alla fine. I miracoli si vedono quando si opera. A tavolino o seduti nella poltrona non si operano mai miracoli nella vita. E i miracoli Dio le fa quando noi ci mettiamo in questo orizzonte di veduta e di intendimento. Allora, vediamo un attimo... Adesso lancieremo anche un messaggio positivo. Comunque, intesa di Natale appunto. Saluto. Ecco, guardi, c'è Flavio che ha scritto sarebbe ora di togliere dalla scuola pubblica i simboli cristiani che è una regola solo italiana. Il popolo italiano è fondamentalmente cristiano e nella cultura cristiana che è la base anche della formazione di tutta la cultura italiana, io penso che lasciare il crocifisso nelle scuole non è sentirsi laici, ma è rispettare una cultura che ha la base del cristianesimo. Dopo ognuno lo può interpretare come vuole, ma non capisco perché si debba togliere il crocifisso. È un rispetto della cultura, certo, è necessario questo segno. Poi ognuno può decidere quello che vuole nella vita, però non capisco perché si debba togliere questo segno qua. Certo. Poi qua stavamo... Questo è un messaggio che si riferiva a prima, tante belle parole, dice un messaggio, poi però ci sono i preti che chiedono, alcuni preti aggiungiamo, aggiungo io, che chiedono la tariffa. È vero, i laici di quella comunità cerchino di parlare col proprio pastore aiutandolo a cogliere che non ha significato questo e ci si deve aiutare vicendevolmente, non ha tutta la verità in tasca il parroco o il sacerdote che nella comunità ci si aiuta a camminare anche nella scoperta di alcune realtà. Allora, saluto Marica che ha scritto... Sono Marica, mi dà fastidio chi bestemme e poi va in chiesa tutte le domeniche, che ipocrisia. Concordo e sottoscrivo. Qua mi viene in mente Monsignor Tonini che aveva detto che c'erano due tipi di bestemmia, tra l'altro. Per quanto riguarda il Natale, le possiamo chiedere, approfitto del messaggio di Adriana che dice, ma quanti credono nel vero spirito del Natale che non è quello consumistico? Io ci credo, penso che Adriana ci creda perché non avrebbe scritto così, siamo già in due a crederlo. Se chi mi ascolta dice io ci credo, saremo due più di... e quindi cominciamo a credere noi. Non è la quantità che è importante, l'importante è che io ci creda a questo e poi il resto viene. Le posso chiedere però la critica che viene fatta ogni anno, che ha anche un suo senso tra l'altro, è sì il sindaco di New York ha organizzato duemila pasti caldi, sì il sindaco di Los Angeles ha fatto fare le casette perché almeno passano le notte di Natale ha coperto il senzatetto eccetera, ma gli altri giorni all'anno... E' questo il problema, la nostra coscienza è che vogliamo metterla a posto in certi momenti, ma invece deve essere una realtà che dobbiamo sempre tenere costantemente presente. Io non posso fare il buono a Natale perché è Natale, ma io faccio il buono a Natale perché è Natale, ma faccio il buono tutto l'anno o mi sforzo di fare il buono tutto l'anno perché il Natale mi è illuminato nel fare il buono tutto l'anno, quindi è una proiezione tra virgolette di luce in tutti i giorni della mia vita. Certo, certamente. Allora, siamo in chiusura, comincio con ringraziare Monsignora Gaetano Fontana, Abbattere i Monti Carino, le volevo chiedere, ci sono delle rappresentazioni film su Papa Francesco? Cito a caso insomma. Questa sera, senza fare pubblicità, è un invito al Cinema Teatro Gloria, alle 21 si tiene una tavola rotonda sull'enciclo del Papa Laudato Si. E visto anche il messaggio che ha lanciato nella sua catechesi nel mercoledì in Piazza San Pietro in questa giornata, penso che possa essere un momento importante. Questa sera alle 21 al Cinema Teatro Gloria. E poi sabato, domenica, lunedì e martedì prossimo, che sono il 11, 12, 13 mi sembra, se no, non ho sbagliato, se è qualcosa da... Ognuno guarda il calendario, comunque, fine settimana prossimo, c'è in prima il film su Papa Francesco. Io Francesco si intitola, penso, che è in prima e se qualcuno vuole approfittare, e abita qui vicino, al Cinema Teatro Gloria, che dovrebbe essere 11, 12, 13 e 14 di dicembre. Benissimo. In chiusura, Monsignore, le chiedo se può fare un augurio ai nostri ascoltatori. Io invito le persone a provare a fare un'esperienza, anche molto fisica, di guardare ogni tanto non solo il pavimento o l'asfalto, ma di guardare in alto e sentire che dall'alto, dal cielo, viene una carezza di Dio che accarezza ognuno di noi, perché impariamo così a carezzarci vicendevolmente. Questo è Natale, auguri. Grazie, amo signor Gheziano Fontana, grazie. Un filo diretto con gli ascoltatori.